Per le vostre libere ricerche e approfondimenti usate il prezioso indice alfabetico con migliaia e migliaia di voci. Si accede inoltre alle playlist degli argomenti che interessano o che sono stati messi al bando. Oltre a questo canale c'è anche il secondo canale YouTube. Il libro Il Risveglio, in bianco e nero, è sempre a disposizione e attualmente collaboro con Canal 104 Plus Telegram e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie. Visto che su Canal 104 Plus lo chef si è preso una pausa, oggi mi cimento sul tema Il latte fa bene? Quanto segue è tratto da un articolo che parla degli avvelenamenti dagli alimenti del dottor Darren Wine, uno scienziato che si occupa di cibo da più di 30 anni. Anche in questo momento diffondono informazioni che i latticini sono salutari e che fanno bene. Vi raccontano che i latticini sono pieni di proteine e di calcio. Coinvolgono personaggi, campioni sportivi e usano immagini di minori, ovviamente, perché vogliono veramente che ogni giorno beviate il latte. Per quale motivo spendono ogni anno milioni e milioni di pubblicità per i latticini? Perché gli darebbe fastidio che si vedesse dietro al sipario le loro mucche malate forzate a mangiare e dormire nella loro sporcizia ogni giorno dove iniettano steroidi, antibiotici, oltre ad una sfilza di vaccini. Poi vi vendono i latticini tossici. Poi aspettano che voi e la vostra famiglia vi ammaliate per diventare schiavi delle case farmaceutiche. Questo, dopo tutto, è il loro gol. Alcuni sintomi della tossicità dei latticini comprendono la formazione di muco, osteoporosi, mal di testa, disturbi del sonno, allergie da cibo, sindrome da fatica cronica, dermatiti varie, asma, crampi allo stomaco, gonfiori, infiammazioni croniche, sindromi dell'intestino irritabile, stitichezza ed altre ancora. Dovresti iniziare a ripulirvi dall'assumere quotidianamente i latticini fin da adesso e curarvi dai danni che vi sono stati arrecati prima che sia troppo tardi. Grazie di aver guardato.